musica 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 lei è studente? io? no, no, smesso, smesso e di che cosa si occupa? di niente al momento ma che ci facevi a villasciare con quel vecchio? lo porta a spasso, mi danno 30 euro all'ora eh, almeno pagherai buffi la raggi? e come ti arrangi? Spacci musica non riesci più a distinguere cosa va bene da cosa va male perché è l'Alzheimer, fa così ma che si attacca? mai sentito è un po' da molto importante metto al sacco dei premi, ho scritto al sacco dei libri come un Dejan ma che si sente male? io? no guarda, è sempre mancata molto la compagnia maschile la sola è solo davanti al portiere in gold abbiamo mancato tutto a posto? le sono obbligato no, non ho capito grazie ah, ecco bello lei non ha mai scritto poesie? no, io non si scrivono quando non si sa dove mettere l'amore se ti portano il Gabby io te ce lascio dai peggio di quanto è io ci ho pensato voglio tornare lassù ma lassù dove? ma dobbiamo fare in fretta non c'è più tempo ma non capisco perché non me ne hai parlato tutto quello che vuoi e fu quello il saluto tutto quello che voglio alla fine l'ho avuto Giorgio scusa è vero che Alessandro ti sta simpatico? ma chi è Alessandro? no, i'm on fire already